Nome, cognome, età Filippo Celli, 18 anni Altezza e numero di scarpe 1,88 e 44 Avevi i capelli così anche l'anno scorso? Momento proverbi, a carne vale Ogni scherzo vale Al contadino non far sapere Ah, eh, non lo so Altezza Ancora, 1,88 Mezza bellezza Ah Che anche abbaia Non morde Bravo, quanti anni hai iniziato a giocare a golf? Ah, all'età di 12 anni Perché giochi a golf? Perché mio padre gioca E quando ero più piccolino andavo con lui Sui campi E mi appassionavo subito come gioco La cosa più bella del golf? Stare all'aria aperta e in mezzo al verde Penso sia una cosa meravigliosa La cosa più importante? Essere molto concentrati E avere tanta voglia e grinta Facci vedere il tuo grip Alza Ok, così Facci vedere il tuo grip da mancino Interlock o overla? Boh Overla? Draw o fade? Draw Fammi vedere quando guardi la linea del pat Stop, cibo Hai 5 secondi per dirci gli ingredienti delle lasagne Vai Mozzarella Sugo Parmigiano Carne E pasta frolla No frolla Fai la faccia della tua emoticon preferita Una da guerriero Più guerriero Faccia da selfie Handicap aggiornato Meno 4 Dove giochi? Il tuo circolo? Sul Jata Golf Club Quanto ti alleni ma mi devi dire la verità Mi alleno tutti i giorni tranne i lunedì Chi è il tuo coach? Carlo Basciu Parlaci dello staff che ti segue Il mio maestro Carlo Basciu e il mio preparatore atletico Alessandro Margheritini Fai altri sport? Ma sì, tennis con mio padre, paddol con gli amici e calcetto con gli amici Pregi e difetti del tuo carattere? Pregio che sono sempre felice di quello che faccio, col sorriso, difetti, a volte manca troppo buono, manca la cattiveria giusta Cosa pensa la gente del tuo swing? E di meglio però spero bene Fammelo vedere da seduto? Quanto fai col ferro 7? 170 metri E col drive? 255-60 di volo e 280-270 totali Rischio, sempre Le tue vittorie in carriera? Campionato nazionale medal, trofeo Emilio Pallavicino Dove sarai fra 5 anni? Spero sull'European Tour a grandi livelli e un giorno anche su PGA Tour Giacca verde o Clared Jag? Bella domanda, però penso giacca verde Ti vedrò alla Ryder 2022? Spero di giocarla, però è molto, 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 molto dura E quindi andrò sicuramente a vederla Il tuo idolo sportivo? Cristiano Ronaldo nel calcio, ho parecchi idoli Rafael Nadale e Roger Federer nel tennis E nel golf Rory McIlroy Bene, facciamo pausa Radice quadrata di 144, veloce 144... Aspetta Hai mai contato i dimple della pallina? Mai Sono circa 336 Buono a saperci Prova a dire super cali fragili, stichè spiralidoso Super cali fragili, stichè spiralidoso La scuola come va? Ma la prossima domanda? No dai, abbastanza bene, ho recuperato tutto la parte fisica Materia che odi? Tutte Con chi vorresti andare in vacanza quest'anno e dove? Vorrei andare con gli amici Ibiza, Micono Sei felice? Molto Come ti chiami su Facebook? Filippo Celli Su Instagram? Filo trattino basso Celli Su TikTok? Non so che sia Su Zortan? Non so che sia Di che segno sei? Vergine E lei, la fidanzata? Non ce l'ho Abbiamo finito, adesso sappiamo tutto di te In 10 secondi, guardando in camera, spiega al mondo intero che cos'è il golf Per me il golf è uno sport pazzesco, perché stai all'aria aperta, giochi e... A me piace, diciamo, la pressione, gioco abbastanza bene e quindi il golf è bellissimo Codice fiscale o memoria? C-L-L-F-P-P-0-6... e non mi ricordo Ok, saluta, ma nel tuo dialetto Bella Sghi